Fra Martino. Dunque, siamo arrivati ad un brano che più o meno tutti conoscono. Nel nostro libro la versione è abbastanza semplificata, è un po' ristretta, ha soltanto otto battute. Comunque, è ben perfettamente riconoscibile la canzone. Dunque, qual è la posizione delle mani? La posizione delle mani è quella che noi abbiamo chiamato come seconda posizione. Vediamo che, per quello che riguarda la mano destra, il pollice sta sul Do centrale e, per quanto riguarda la sinistra, sul Do, ma non il Do centrale, quello che sta più in basso, deve essere posizionato il mignolo. Quindi la posizione è la seconda. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Vediamo che la mano destra è la prima a partire. La mano sinistra, infatti, ha due battute di pausa, dopodiché inizia a suonare anche lei. Allora, la canzone vera e propria, la melodia conosciuta, è suonata per intero dalla mano destra. La mano sinistra imita la mano destra e ripete, a distanza di due battute, quello che ha già suonato la mano destra. Vediamo subito come funziona, mi spiego meglio. Inizia la mano destra e suona le prime due battute della melodia, che corrispondono alla frase fra Martino Campanaro. Do, Re, Mi, Do, Do, Re, Mi, Do. E quando la mano destra ha suonato la sua prima frase, ovviamente prosegue, e suona le note che corrispondono alla frase Dormi tu, Dormi tu. Mentre la mano destra sta suonando queste note, la mano sinistra inizia a suonare e ripete quello che la destra ha suonato un attimo prima, cioè Do, Re, Mi, Do, Do, Re, Mi, Do. E' come se la mano sinistra iniziasse cantando fra Martino Campanaro, ma lo fa dopo che lo ha già fatto la mano destra. Andiamo avanti. Quindi la mano destra ha suonato, la mano sinistra ha imitato la mano destra, che è andata avanti. A un certo punto la mano destra suona la frase successiva, suona le campane, suona le campane, e la mano sinistra suona le stesse note che corrispondono al Dormi tu, Dormi tu, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, come quelle che aveva suonato la destra un attimo prima. Quindi ecco che la mano sinistra parte dopo che è partita la destra e ripete quello che la mano destra ha già suonato, e lo ripete perfettamente uguale. Ora questa cosa si limita alle prime sei battute, dopodiché abbiamo il finale, il din-don-dan, e questa imitazione si conclude, perché come vi dicevo il brano è semplificato. Questa imitazione, questo inseguire ripetendo esattamente la stessa cosa di una mano con l'altra, è quello che viene chiamato nel linguaggio musicale il canone. Il canone è un brano che può essere suonato o può essere cantato nel quale abbiamo o le mani che suonano o le voci che stanno cantando che si inseguono l'una con l'altra, perché c'è una voce che parte dopo e che ripete in maniera esattamente uguale quello che ha fatto già la voce che è partita per prima. Vi dicevo che questa è una versione semplificata, tanto è vero che dopo che la mano destra è arrivata a suonare le campane si conclude con il din-don-dan e il suonare le campane la mano sinistra non lo fa. Sarebbe stato un pochino troppo complicato ancora, tenendo conto del livello al quale siamo arrivati. Cos'altro bisogna dire? La mano destra a un certo punto deve spostarsi, dopo aver suonato il dormi tu dormi tu mi fa sol mi fa sol, vediamo che dobbiamo arrivare con il nostro mignolo a suonare un la, ma noi avevamo la mano nella posizione do re mi fa sol, quindi è chiaro che la mano si deve un po' spostare per poter arrivare a suonare questo la con il mignolo come viene suggerito nella parte. È vero, quando abbiamo finito il dormi tu la mano si muove e si muove lasciando il pollice sul do centrale, perché il do centrale ci serve ancora, e spostando le altre quattro dita, lasciando quindi libero il re perché il re non ci serve più, quindi la mano è in questa posizione, si spostano quattro dita, il re rimane vuoto perché non ci serve più da questo momento in avanti, e il pollice rimane comunque sul do centrale. E questo è lo spostamento che ci permette di suonare queste due battute in maniera molto comoda. Il din don dan poi è fatto dalla collaborazione fra le due mani, destra e sinistra. Quindi suono direttamente le due mani insieme. Come vi dicevo, questa è una versione semplificata. Se noi volessimo realmente fare una versione effettiva, completa, con le due mani che si inseguono, la cosa sarebbe un pochino più complessa. Non è qui scritta sul libro, la suono semplicemente per curiosità. la sua versione effettiva è un pochino più complessa. eccetera eccetera eccetera.